Sempre ci sono state raccomandazioni, favoritismi, soprattutto nepotismi in qualsiasi età, nell'antichità, dovunque. Però in Italia abbiamo passato veramente ogni limite e secondo me è uno dei problemi fondamentali della società italiana perché è corruttivo, cioè ci si adegua. Se io vedo che merito ma non riesco ad affermarmi su quelli che hanno la spinta, che cosa faccio? Vado a cercarmi la spintarella anch'io. È brutto. Spero che le cose cambino ma credo che me ne andrò da questo mondo prima di vederle cambiate. Io spero che questo nuovo governo, che mi fa simpatia perché sono per il cambiamento sempre e dovunque, però non sappiamo granché. Spero che questo governo dimostri competenza, buona volontà e non onestà, onestà, onestà come in seguito perché deve essere un dovere elementare. Io qualche fiducia ce l'ho poi.